Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi della mia vera passione. La mia vera passione sono gli attrezzi da lavoro, tutto quello che è a batteria. Ne ho di tantissimi tipi. Ho quelli professionali della Milwaukee, li ho quasi tutti, dall'M18 agli M12 e alcuni li ho addirittura anche doppi, visto che siamo in due per lavorare. E poi ho gli attrezzi della Milwaukee. Moltissimi non li ho ancora aperti, perché non li ho ancora usati. Ogni tanto quando guardo su internet e trovo degli affari, li compro, poi a mano a mano li uso. Oggi vorrei focalizzarmi sugli accessori della Ryobi. Come vi dicevo, questi sono tutti gli attrezzi della Ryobi a cui io vorrei recensire, vorrei fare una recensione. Ora vi elenco tutti, vi dirò quelli che sto già usando, quelli che funzionano bene. Se fossi interessati a qualcuno di questi, me lo dite e lo metterò in testa la lista per le recensioni. Ne ho di tutti i tipi, questo lo uso da un paio d'anni, funziona benissimo, un seghetto alternativo che uso per montare i cassonetti. Anche questo lo uso tantissimo, lo uso per tagliare le finestre di legno in cantiere. Una volta ne ho tagliate 100 in due settimane e funziona ancora benissimo. Questo l'ho trovato su Subito, l'ho comprato soltanto perché c'era anche una batteria e il caricabatteria a 60€. Questo ve lo sconsiglio perché quello che avevo comprato io nuovo mi è durato due settimane. L'oggetto che a me è piaciuto di più di tutti è questo, che è la pistola del silicone. Io ne ho già una, su un sito l'ho trovata a 20€ più IVA, se a qualcuno dovesse interessare me lo faccio sapere, gli do il nome del sito. Questa la uso ormai da un anno, quell'altra, ed è il primo accessorio che vorrei fare una recensione. Questa è la spara chiodi e l'ho già usata, l'ho già usata anche per fare un tutorial, se siete iscritti al mio canale l'avrete già visto. Questo è un piccolo compressore che uso per caricare la vela quando faccio kai surf, anche quello è comodissimo. Questo l'ho comprato sul sito dove ho comprato la pistola del silicone, non l'ho ancora usato, l'ho pagato 15€, testeremo anche questo e vedremo come funziona. Questa lampada che funziona con le batterie l'ho pagata 5€ sempre su quel sito, anche questo pantografo l'ho usato una volta, l'ho pagato 15€. Ho pagato 30€, che è il cacciavite elettrico o trapanino a 90 gradi. Poi cosa abbiamo ancora? Anche questa l'ho comprata in promozione a 60€, che è la sega circolare. Anche questa sarà una delle prime cose che recensisco perché sono curioso di vedere come funziona. Poi ho le batterie, anche questo vorrei fare una recensione delle batterie. Questa ce l'ho da pochissimo, che come vi dicevo, no questa è quella non originale, questa la uso già da un annetto. Poi ne ho una originale, che non so dove è, ecco, questa è due settimane che ce l'ho, l'ho comprata insieme alla, come si chiama, alla moletta. Anche questa vorrei recensirla, farvi una recensione e vedere tra le due, che sono tutte e due a 4A, vedere quale che funziona meglio. Ecco, io per adesso chiudo il tutorial e spero che mi scriviate qua sotto quello che vi interessa. La prima cosa che recensisco, come vi ho detto, farò la pistola del silicone domani. Creerò questa playlist e farò una recensione di un prodotto alla settimana. Spero che in tanti siate appassionati, come me, di accessori per lavoro, per lobbistica o anche per lavorare. Spero che mi contattiate, che questi sono gli accessori che ho, ma molti altri ne arriveranno, perché ogni volta che li troverò in promozione li comprerò e li testerò. Come vi dicevo prima, se siete interessati a qualcuno di questi prodotti e volete che lo recensisco prima di altri, basta che lo scrivete qua sotto e io sarò lieto di aiutarvi. Grazie, buona giornata.